Siamo qui a Futuro Remoto con il suo Rorsola Benincasa, abbiamo immaginato una rossa di proposte che declini le intelligenze, abbiamo coinvolto la parte storica, la parte di Digital Humanities, ma anche la parte di giurisprudenza, come si collega con l'intelligenza artificiale e anche la parte di psicologia, infatti un gruppo di ergonomia cognitiva ha partecipato proponendo anche delle soluzioni nel rapporto tra colori, emozioni e intelligenza artificiale. Quindi oggi abbiamo anche il piacere di avere qui un Oculus che racconta il rapporto tra il suo Rorsola Benincasa e Cappella Pignatelli e lo fa attraverso una narrazione in cinematico virtual reality. Due donne, due storie e due visioni da esplorare insieme ai partecipanti a questa edizione di Futuro Remoto. Grazie a tutti!